Musica Ultiamo pagina per parlare delle bellezze della gastronomia in ogni sua sfumatura perché dietro ad ogni pelibatezza c'è una storia da raccontare primizie da ricercare, conoscere e infine gustare in questo mondo, si possiamo dire, di intuizioni e di creatività ci accompagna l'ospite di questa mattina è con noi a mattina live Giuseppe Gargiulo ovvero il cacciatore di eccellenze gastronomiche ben trovato mattina live grazie a voi per avermi accolto è un vero piacere averla qui nei nostri studi entriamo subito nel suo mood di ricerca e di gusto come e quando nasce la sua passione? nasce tanti anni fa nasce sulla base del fatto che tanti anni fa non c'era la possibilità di avere strumenti che noi oggi abbiamo a disposizione, cioè gli strumenti di comunicazione e all'epoca, quindi, l'unico modo per poter ricercare le eccellenze era doverlo fare proprio realmente cioè dover andare fisicamente alla ricerca di questi prodotti questa cosa mi ha affassionato mi ha entusiasmato perché era proprio una caccia una vera caccia al tesoro alla scoperta di queste realtà uniche che c'erano legate a grandi personaggi che dedicavano la vita per realizzare dei prodotti meravigliosi e quindi praticamente me ne sono fatto pian piano prima una passione poi questa passione, parlando con altri, è stato un passaparola no, ma si potrebbero avere quei pomodori quelle situazioni, quelle cose finché poi è diventata una professione tanti anni di studi direi come si diventa? che cosa significa essere oggi un food hunter? allora, c'è una parte importante io faccio sempre una differenza tra il conosce e il sapere per me il meccanismo del sapere è legato al vivere con i sensi qualcosa quindi prima di tutto se io non conosco i sapori se io non vivo quelle realtà non riesco poi a trasferire qualcosa se me le leggo soltanto no, cioè leggo qualcosa scritto da altri ma è un'esperienza di altri quindi la prima cosa che devi fare devi fare la tua esperienza e l'assaggio è la cosa più importante quindi avere il concetto di sapere articolare i propri sensi per degustare qualcosa è uno strumento importante che ci consente di poter scegliere i prodotti poterli confrontare oggi abbiamo strumenti anche elettronici molto più complessi quindi possiamo andare oltre i nostri sensi però io sono un po' vecchietto quindi ritengo che i sensi siano sempre la parte più importante che ci accomuna Lei crea un ponte di comunicazione e di relazioni tra i produttori di chicche gastronomiche e il mondo della ristorazione costruttore di rete e di connessioni che permettono quindi poi di investire nel food italiano marchio di qualità e di eccellenza Perfettamente cioè il mio lavoro è proprio questo cioè io non sono un rappresentante cioè non prendo percentuali su quello che faccio io faccio il consulente cioè sono una persona che da un punto di vista etico si interfaccia tra quelle che sono le esigenze della ristorazione ma non solo guardi ho molti diciamo prete affezionati che sono prete dei cuochi dilettanti cioè chi si diletta di cucina sono prete professionisti importanti e che molto spesso amano fare dei regali particolari ai loro clienti quindi cercando delle prelibatezze uniche che ci sono in giro e quindi oppure chi vuole fare bella figura una cena d'amici di sera vuole fare una bella scena e vuole avere un prodotto che l'amico rimanga lì e dica oh cavolo come hai fatto a trovarlo quindi questo è il meccanismo poi c'è quella parte diciamo più professionale che invece è legata al concetto degli chef dei pizzaioli o di tutti quelli che operano in questo settore che sono molti che non hanno la capacità di poter anche se tanti lo riescono a fare qualche volta di andare in giro fisicamente a ricercare prodotti andando a selezionarli perché hanno tante altre incompensi da dover fare devono portare avanti un'attività per cui si affidano in alcuni casi a delle persone come me che fanno questo lavoro per il loro conto ma queste persone sono alle spalle non appaiono mai cioè io sono mister nessuno cioè nel senso che queste persone non devono apparire perché sono praticamente legate a un lavoro di un altro ed è l'altro che deve avere il suo compito e deve dimostrare se stesso non io In base alla sua esperienza quanto e come è cambiato il food italiano negli ultimi anni? Allora guardi sta cambiando moltissimo siamo passati prima a un prodotto diciamo che ha avuto una massificazione quindi perché abbiamo avuto le grandi catene internazionali e i supermercati che hanno un po' massificato i prodotti oggi si sta tornando indietro infatti nelle grandi catene di supermercati vediamo che praticamente c'è la ricerca di fare delle sezioni di prodotti di alto livello cioè quindi stanno cercando di andare a cercare anche loro prodotti che abbiano delle differenze sostanziali e anche nelle persone si sta tornando a dire vogliamo mangiare più casa nostra cioè fare un discorso più nostro e quindi stanno ritornando a valutare sapori che prima avevamo dimenticato Quindi come è cambiato esattamente? È cambiato nel senso che praticamente adesso c'è maggiore attenzione nella ricerca di di nuovo offrire il buono non solo il bello ma anche il buono qualitativamente qualitativamente lì poi c'è una grande difficoltà perché avere il bello è facile avere il buono significa veramente conoscere il sapere tutto ciò che c'è dietro a un prodotto non limitarsi ad avere a vivere il prodotto ma sapere qual è la differenza di un prodotto rispetto a un altro C'è chi predilige di fare la spesa online chi si affida alle grandi catene di market però c'è anche chi si rivolge a lei che dopo anni di studio quindi di viaggi e di osservazioni offre un servizio di prima qualità per selezionare appunto dei prodotti di ottima scelta come sanno le nostre telespettatrici a casa fare la cosiddetta spesa non è una cosa facile non è per niente una cosa facile e le massaie sono le massaie una volta adesso prende le donne perché sono impegnate nell'attività di lavoro quindi sono iper impegnate fanno un'attività di scouting importantissima si occupano di verificare che il prodotto sia buono che la data di scatenza sia ottima che ci siano tutta una serie di situazioni però questo lavoro che loro fanno deve essere supportato poi dalla possibilità di avere dei prodotti che di base siano già di qualità e il fatto di costruire prima mi ha fatto una domanda a cui io non ho risposto in pieno cioè costruire una rete di relazioni di piccoli produttori che dedicano la loro vita alla costruzione dei prodotti è una cosa importantissima perché quelle persone costruiscono un prodotto e hanno necessità di venderlo perché solo vendendolo hanno la possibilità di rinvestire nel prodotto stesso quindi vede come è importante questa economia di scala che si crea tra tante cose noi se le compriamo i prodotti diamo opportunità di costruire di nuovo il prodotto è bellissimo insomma come è cambiata la vostra professione? allora guardi questa professione c'è sempre stata diciamo che vede tante persone che lo fanno in maniera non professionale cioè nel senso che ci sono tanti appassionati tra cui gli stessi chef o pizzaioli che fanno questa attività di scouting poi nel tempo c'è bisogno c'è stata la necessità di invece valutare un discorso diverso dove il prodotto va valutato anche nell'aspetto sensoriale avendo veramente la capacità di comprendere quindi ci sono i panel di degustazione ci sono tutta una serie di meccanismi che consentono di valutare un prodotto rispetto ad un altro ed è importante anche un'altra cosa importantissima che è il lotto di un prodotto perché un lotto può essere differente dall'altro questo è importante in che cosa? significa che un'azienda produce un grande prodotto ma lo produce in lotti in quantità limitate di prodotto ogni lotto ha una sua storia per cui ci sono delle aziende che hanno lotti che sono di valore più alti e un po' il concetto del vino con le annate lei si trova con dei vini di annate particolari che sono eccellenti rispetto a altri che hanno delle annate in cui sono buoni ma non sono eccellenti al massimo questo vale anche per i prodotti che sono legati ai formaggi a quelli che sono quindi bisogna determinare non solo qual è l'azienda che lo produce ma anche quell'otto come è stato prodotto perché? perché le condizioni climatiche perché le condizioni di produzione in quel momento sono state meravigliose e quindi hanno creato un prodotto unico per quell'otto e come si scelgono quindi i prodotti per fare la spesa diamo un consiglio appunto ai nostri telespettatori a casa allora io faccio una premessa prima di tutto dedichiamoci ai prodotti che sono contrassegnati dai marchi DOP e IGP sono prodotti che sono legati a consorsi di tutela che hanno strumenti di controllo quindi fanno in modo che quei prodotti abbiano delle caratteristiche controllate e certificate e quei marchi sono importantissimi per noi perché ci consentono di dire questo è un prodotto fatto secondo uno schema preciso poi abbiamo al di sotto di questo tutta una serie di prodotti chiaramente dopo è IGP che sono i due marchi europei che contraddistinguono i prodotti poi abbiamo tutta una serie di prodotti più piccoli che sono legati ai PAT che sono prodotti agroalimentari territoriali purtroppo in quell'ambito c'è bisogno che chi fa scouting sappia scegliere i prodotti migliori e lì dobbiamo affidarci a quelle aziende che si affidano o lo fanno direttamente a persone che fanno questa attività mirando ad avere non il miglior prezzo ma il miglior rapporto qualità prezzo oggi lei collabora con il paniere di eccellenze artigiani del gusto e affianca tra l'altro diversi chef e pizzaioli italiani nella realizzazione dei loro progetti gastronomici i suoi sogni da bambino si sono realizzati o c'è qualcos'altro di nascosto che vuole venire fuori no guardi i miei sogni di bambino si sono non realizzati di più io sono felicissimo di quello che faccio devo dire la verità sono rimasto molto colpito della vostra attività di raccolta di queste perché io non sono una persona che spesso va in tv quindi siete stati bravissimi a trovarmi a scovarmi voi a me per fare questa attività perché veramente io sono molto soddisfatto non curo moltissimi progetti non avrei la capacità di farlo per tanti ho poche persone tra cui questo pianiere eccezionale fatto da un distributore campano che è Perrella che si occupa mi ha dato la possibilità di fare questa selezione di prodotti che io ho iniziato abbiamo fatto delle selezioni molto interessanti e siamo in grado oggi di dare in quel pianiere dei prodotti veramente buoni per alcuni settori della ristorazione citando un suo motto per essere un cacciatore di eccellenze gastronomiche bisogna sapere e conoscere ci spiega in cosa si distinguono per lei i modi di percepire la realtà allora lo dicevo prima l'ho anticipato perché è un mio motive quindi praticamente glielo ho anticipato il concetto è per me la conoscenza viene dal libro cioè io praticamente leggo libri apprendo cose e faccio le situazioni il sapere invece è legato ai sensi per cui per me uno che vuole ben mangiare deve mangiare così come se io voglio diventare un buon scrittore devo leggere non c'è possibilità di fare altrimenti oltre alla sua crescita professionale investe anche molto sulla sua esperienza nell'ambito della formazione per i professionisti del settore quali peculiarità devono mancare non devono mancare per diventare appunto un'eccellenza nella ristorazione allora ogni settore ha una sua esigenza di ingredienti sembra strano ma parlare per esempio di pomodori in cucina è diverso di parlare pomodori in pizzeria perché i pomodori in pizzeria vengono usati in una maniera e in cucina vengono usati in un'altra maniera per cui esistono pomodori che sono migliori per fare la pizza e pomodori che sono migliori per fare la cucina qui entriamo orando in meccanismo adesso mettiamo in confusione le signore che ci stanno ascoltando che diranno mamma mia qual è il pomodoro giusto giusto ma non solo qual è il formaggio giusto come va tagliato come viene servito e ci sono tutta una serie di cose quindi vede un mondo enorme che deve essere visto nella sua totalità ed è complicato se noi riusciamo a fare queste cose però potrà vedere che non con grandi ricette ma con semplici preparazioni fatte di pochi ingredienti possiamo fare delle cose meravigliose perché sono gli ingredienti che compongono le ricette la sua attività ha molti aspetti da scoprire quali saranno le prossime sfide che la vedranno protagonista allora guardi il mio sogno è quello di poter offrire la mia competenza in ambiti istituzionali cioè fare in modo che probabilmente in alcuni ambiti istituzionali io possa fare selezionare le le eccellenze italiane da proporre all'estero questa è una cosa molto bella per me per esempio riuscire a fare in modo che nei momenti istituzionali che vedono il nostro paese all'estero ci sia la capacità di poter selezionare in maniera attenta alcuni prodotti che sono piccole nicchie che non si trovano da nessuna parte però le eccellenze italiane all'estero sono comunque ormai un settore molto sviluppato assolutamente sì l'abbiamo già detto prima perché abbiamo fortunatamente i DOP e gli GP che ci rappresentano aggreggiamente ma io sono legato alle nicchie quindi quei piccoli prodotti che hanno mille barattoli 700 barattoli e che sono delle chicche talmente piccole che avere scovarle è quasi impossibile è impossibile quindi quelle sono le realtà particolari che rappresentano piccolari e territoriali piccole produzioni fatte secondo la tradizione classica di quel posto che sono cose spettacolari sono veramente se ne può svelare qualcuna sì abbiamo per esempio allora noi abbiamo i pat glielo dicevo prima no praticamente la goccia di avellino che è praticamente una diciamo tra virgolette una culaccia cioè un pezzo del discorso del maiale molto molto importante questa goccia di avellino è un prodotto molto particolare che è più complicato da trovare oppure dei formaggi che sono legati alla tradizione classica dell'avellinese del beneventano legati alle pecore ai caprini sono delle cose molto particolari che sono legate a una tipologia di animale particolare prodotte in un posto particolare quindi ci sono tutta una serie di diversi chiaramente non le troverete nei supermercati noi la ringraziamo veramente per essere stata in nostra compagnia mattina live ringraziamo Giuseppe Gargiulo cacciatore di eccellenze gastronomiche noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità grazie